Sono Aurelio Sargenti, membro del Consiglio del Pubblico. Ho partecipato con altri colleghi al monitoraggio della trasmissione L'Apprendista. Sono Paolo Guglielmoni, lavoro alla RSI. In questo caso si parla di una trasmissione che ho prodotto e condotto su Rete3. L'Apprendista è un programma della Radio della Svizzera Italiana, nato in collaborazione con l'Ufficio dell'Orientamento Scolastico Professionale. Il programma è un dialogo tra una giovane e un giovane apprendista con un giornalista, Paolo Guglielmoni. Un programma atteso a illustrare alcune professioni attraverso lo sguardo, attraverso coloro che stanno imparando la professione. E allo stesso tempo il programma mette in evidenza l'importanza del nostro sistema di formazione. C'è un sistema che unisce teoria e pratica. Mi ha fatto molto piacere che il Consiglio del Pubblico della Corsi abbia notato che nel programma il protagonista indiscusso è il ragazzo o la ragazza, l'apprendista. Io come conduttore devo veramente essere un tramite perché il ragazzo possa raccontarsi. Paolo Guglielmoni è stato un bravo intervistatore, aiutato anche dalla sua innata simpatia, che ha condotto il programma in modo sereno, in modo tale da poter mettere a loro agio gli intervistati. Se dobbiamo provare una pecca, diciamo che Paolo Guglielmoni ogni tanto forse esagerava con le battute. Magari questo poteva mettere in difficoltà l'intervistato. La critica è sicuramente giusta. Insieme al partner Dex abbiamo fatto una selezione dei ragazzi. Quelli che volevano esserci a Rete3 sono stati chiamati. Poi c'era una preparazione telefonica e ancora una preparazione un'ora prima della trasmissione e io parlavo con il ragazzo per capirne la personalità e la passione per il lavoro che stava imparando. Se durante la trasmissione il ragazzo, perché non è un professionista della comunicazione, non riesce a tirarmi fuori delle cose che so che sono di interesse pubblico, la mia tattica di intervistatore è stuzzicarlo o con una battuta o con una provocazione. Quando la cosa riesce, il pubblico ha qualcosa di più. Non sempre si indicava, si palesava il nome della ditta nella quale sta svolgendo l'apprendistato, il giovane. Sarebbe forse più corretto ogni volta indicare il nome della ditta, anche per valorizzare le aziende formatrici. Sì, ci vuole uniformità, questo è stato un errore. Il sito internet della trasmissione ha nella pagina un titolo, Trova un lavoro su Rete3. È un titolo che noi abbiamo trovato fuorviante. Andrebbe forse sostituito con un altro titolo, per esempio Scopre i mestieri su Rete3. Inoltre non sono state registrate tutte le puntate, non sono tutte reperibili e non sono titolate. Quindi diventa veramente difficile per il fruitore andare a trovare la puntata desiderata. Critica anche questa giusta, la parte online del programma leva un po' una ruga sciada, come si dice in dialetto, questa è responsabilità mia. L'errore è stato corretto, adesso sul podcast di Rete3 si trovano tutte le puntate ben indicizzate, ben titolate. Alla fine di ogni puntata si dovrebbe ricordare chiaramente ai radioascoltatori gli indirizzi utili per poter avere tutte le informazioni che vengono date durante la trasmissione. Ci sono state quattro edizioni dell'apprendista. All'inizio eravamo partiti col piede giusto, utilizzando il sito orientamento.ch per dare al pubblico tutte le posizioni di tirocinio aperte in quel momento del mestiere che stavamo raccontando. L'abbiamo fatto all'inizio, non l'abbiamo più continuato, anche qui è mancata l'uniformità. Una trasmissione piacevole, una trasmissione vivace, una trasmissione ben condotta. Una trasmissione utile non solo per gli apprendisti, ma anche per i loro genitori. Ecco, l'apprendista è un bel esempio di trasmissioni che possono essere presentate su tutti i canali della rete radiofonica, in modo che si possa raggiungere il maggior numero di ascoltatori. Il fatto che possa essere messo su più reti non dipende da me, evidentemente, però è interessante il fatto che possa raggiungere il pubblico più ampio possibile. L'apprendista è sempre stato messo su binari in concomitanza con Expo Professioni, la fiera dei mestieri organizzata dal DEX ogni due anni. Naturalmente adesso la rete va creata anche con la città dei mestieri. Da tanti anni Rete3 è sempre ricercata dai partner pubblici con un obiettivo che è sempre quello. Riuscire ad avere una cinghia di trasmissione che comunica in modo fresco, diretto, quello che è il messaggio importante, è stata una chiave di successo per noi e l'apprendista si iscrive in questo solfo. Riuscire ad avere una città dei mestri.